Allora ci siamo per gara 1 di gruppo 5 Allora ci siamo per gara 1 di gruppo 5 Allora ci siamo per gara 1 di gruppo 5 Allora abbiamo un forto pubblico E tante minicarre in griglia oggi sul gruppo 5 Buongiorno Antonino Allora facciamo Pastore Primo Buongiorno Vago Buongiorno ragazzi Qua abbiamo il signor Carlo Buongiorno Buongiorno Angelo Buongiorno Buongiorno Pasquale Coppola L'assistente Buongiorno Di poche parole Sempre Tu parlo proprio Tu parlo proprio Qua abbiamo Montanaro Buongiorno in diretta Buongiorno 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 Siamo il campione Siamo due consigli prima della partenza Sì 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 Ultimi dettagli In bocca al lupo Buongiorno Le bombe Le bombe Sì Qua abbiamo Ciro Vincenzo Buongiorno Buongiorno Abbiamo tutto il team Belardo Amedeo Qua abbiamo Michele Calmissimo Sempre Michele Buongiorno Buongiorno Vai prima che piove qua In bocca al lupo L'assistente di Michele Buongiorno Qua abbiamo Iguomo Buongiorno a Paola In bocca al lupo Giancarlo E qua abbiamo anche Domenico Buongiorno Domenico Buongiorno Buongiorno Come va? Tutto bene Qua abbiamo Francesco Francesco Buongiorno Buongiorno Tutto bene Tutto bene In bocca al lupo Stamattina è giù lo tuuri qua Ci fa piacere Ci fa piacere Grazie In bocca al lupo Ciao ciao A dopo Qua abbiamo Silvestro Buongiorno Silvestro Buongiorno Buongiorno Grazie auguri Guardino buongiorno Buongiorno dopo Buongiorno a Lucio Buongiorno a Lucio Buongiorno 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 Antonino Buongiorno Buongiorno Antonino ci siamo, ci siamo troppo no vabbè non c'è nessuno proprio nessuno non c'è nessuno proprio nessuno attenzione attenzione che sono partiti faremo una bella diretta con commento mi serve un commentatore eccolo qua buongiorno appena partiti per il warm up lab le bicilindriche gruppo 5 gara 1 da vedere tutta d'un fiato abbiamo il polman Pasquale Pastore in prima posizione secondo Francesco Ferrara terzo Pasquale Coppola quarto se non ricordo male Oronzo Montanaro la Spartopola Oronzo Montanaro a giro secondo Michele De Quintis Paola Cuomo di Gregorio è ultimo per venire a fare le prove Ricci Russo stanotte hanno lavorato tutta la notte perché anche questo è il settecento per preparare il motore e per mettergli a lui di fare la gara Ivan se andiamo sopra mi fai lui il pommetto dai andiamo dai dai andiamo sopra buongiorno complimenti buongiorno grazie andiamo Ivan andiamo andiamo là sopra io faccio la ripresa e tu mi fai il pommetto da qua si 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 il campione incarica Ivan che ci fa da commentatore che onore abbiamo il signor Mascolo qua buongiorno 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 allora ci mettiamo qua ci siamo ci siamo ci siamo vediamo qua se riusciamo a vedere la partenza la base più importante ciao che c'è l'adrenalina della cava non più importante si 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 i driver sono tutti pronti vediamo quando spintolerà la bandiera verde che darà il segnale di avvio l'accensione dei semafori sono quasi pronti a provare alcuni istanti e andrà giù la bandiera verde scende in questo momento quindi i semafori che si accendono tutto pronto per la partenza di gara 1 che avviene in questo momento con Pastore che parte bene anche Coppola e Montanaro su Ferrara subito aggressivi vedremo come usciranno dalla prima pulpa ottima la partenza per Pasquale e Pastore e anche per Coppola e Montanaro tutti che si presentano in pulpa subito con Pastore Coppola e Montanaro bandiera russo guarda la sospesa non l'hanno capito non l'hanno capito non l'hanno capito ok tutti fermi si riparte purtroppo c'è un incidente è stata sospesa la gara per questo incidente tra Coppola e Michele dopo il contatto di Coppola e Montanaro riprendiamo dopo allora